Buona mercoledì 29 settembre, dopo alcune mattine dedicate alla riflessione sull'evoluzione dei club, sulla diversa denominazione degli stessi con relative interpretazioni che riguardano le finalità, i contenuti e anche e soprattutto l'ambito entro il quale i club si muovono, a partire comunque tutti dalla questione relativa alle problematiche derivanti da un comportamento umano ancestrale, cioè fin da quando gli esseri umani hanno avuto coscienza di ciò che accadeva e naturalmente hanno avuto anche la possibilità di manipolare ciò che sta attorno, gli esseri umani hanno imparato a inebriarsi, a intossicarsi, a cercare attraverso sostanze psicoattive, allora non sapevano che fossero sostanze psicoattive, ma poco importa, hanno fatto esperienza senza sapere e attraverso queste hanno costruito una conoscenza sempre più raffinata su come modificare lo stato di coscienza, cioè su come vivere a questo mondo cercando infinite scorciatoie per stare un po' meglio, perché questa è l'essenza stessa della intossicazione etilica, se voi andate a vedere le modalità espressive di uno stato di intossicazione o se le avete vissute in prima persona, vi rendete conto che si alternano le infinite sfumature emozionali, sentimentali, anche razionali, attraverso le quali noi esploriamo il mondo e naturalmente l'intossicazione alcolica, questa esplorazione del mondo ha la pretesa di trasformarlo in maniera del tutto immaginaria, c'è chi seduto al bar leggendo il giornale sportivo e sotto l'effetto alcolemico, dopo aver traccannato un po' di bicchieri di vino o di birra, oggi forse si usa ben altro lo spritz, incomincia a immaginarsi lui, il centravanti della squadra del cuore, l'allenatore, si infuria perché non hanno capito niente sulle strategie e le tattiche di conduzione della partita, si inalbera e si sente improvvisamente super esperto nel suo sport preferito che raramente ha effettivamente giocato nella giovinezza e poi non ha più fatto sport, non ha più praticato uno stile di vita sano, mi riferisco a uno sport che è movimento fisico, non competizione esasperata, perché anche quest'ultima molto spesso spinge a modificare lo stato di coscienza, a dopare l'esistenza, per cui vedete anche se noi ci soffermassimo semplicemente sull'alcol troveremo le infinite sfumature di quella che chiamano in maniera impropria a mio parere, la malattia mentale. E che cos'è la malattia mentale? Forse sarebbe il caso di rispondere che la malattia mentale altro non è che le infinite espressioni attraverso le quali gli esseri umani fanno i conti con la realtà e questo fare i conti con la realtà deriva non semplicemente da un pensiero razionale, deriva anche dal fatto che molto spesso gli umori ci avvengono, non noi li produciamo, per questioni molto oscure. Se ci affidiamo alle mani esperte questa persona esperta cercherà in tutti i modi di dare una spiegazione anziché soffermarsi e costruire insieme una esperienza relazionale. dunque anche la malattia mentale dovrebbe essere caratterizzata dal fatto che ci sono tante malattie mentali quanti sono i malati mentali, ognuna personalizzata e con sfumature temporali che possono andare dal singolo episodio, a tutti noi può essere capitato di vivere dei momenti di profonde incomprensibile tristezza, quella che viene definita dalla psichiatria la depressione endogena e che trae la sua origine dal fatto che forse non si è sufficientemente esplorato l'insieme delle variabili relazionali ambientali che hanno portato a quello stato di tristezza, oppure abbiamo vissuto un momento di difficoltà, di perdita, di luto, ma allora quella è una depressione reattiva o ancora può essere capitato di avere una paura immotivata, una tensione interiore che porta al panico e allora la sudorazione aumenta, il ritmo cardiaco cresce e il respiro si fa affannoso, sentiamo un cedimento della muscolatura, tutto questo rappresenta un lasciarsi andare alla paura che sta penetrando dentro di noi e anche in questo caso come nella depressione endogena si tratta di una paura endogena che trae la sua origine dal fatto che non abbiamo sufficientemente esplorato ciò che accade intorno a noi, viviamo inoltre in una cultura caratterizzata da una considerazione a mio parere errata che tutto accade semplicemente dentro di noi, cioè non riconosciamo la nostra coevoluzione relazionale e ambientale. Noi non abbiamo una precisa identità definitiva e data per sempre, quella che porta poi a definire i caratteri delle persone che sono etichette indelebili, applicate a una realtà che di fatto è in sé evolutiva e molto spesso accade che quell'etichetta applicata ci sta un po' stretta perché noi non sentiamo di essere come ci descrivono, ma ci sentiamo contemporaneamente costretti a identificarci con ciò che gli altri ci hanno caratterizzato. e qui si apre la questione che è l'essenza stessa dei club, come superare l'etichetta dell'alcolista ben distinto dal bevitore normale, moderato, sociale, capace di controllare, virtuoso. quella iniziale differenziazione tra normalità e devianza che da sempre caratterizza il tentativo degli esseri umani di creare dei distinguo tra normali e devianti. questo è il modo di funzionare di una mente umana che incline alla ricerca esasperata del potere e qui nasce un altro aspetto sul quale i club non possono non impegnarsi ad approfondire perché riguarda la questione della politica, non sto parlando dei partiti. i partiti sono una parte fondamentale, sono forme organizzative della politica ma la politica è quella dimensione sociale che ciascuno di noi ha l'obbligo di coltivare perché è di fatto un dono, una liberazione rispetto a uno stato di schiavitù. La politica è quando ciascuno prende coscienza di appartenere a una comunità e esercita la sua responsabilità, il suo dovere di agire, non semplicemente il diritto di votare ma il dovere di essere coprotagonista nei processi di crescita e maturazione di una comunità coprotagonista delle scelte che non possiamo lasciare delegando nelle mani di pochi e questo rappresenta anche per i club una opportunità straordinaria di affrontare il disagio della politica che tra l'altro in questo tempo di ipertrofia mediatica rischia di essere semplicemente una rappresentazione teatrale, grottesca, di cattivo gusto dove ci si accanisce gli uni contro gli altri e addirittura ultimamente si chiamano in causa anche gli scienziati che ben volentieri si subordinano a questo scenario e si subordinano pensando e naturalmente accadendo anche non solo pensando, facendo accadere di essere una sorta di star anche la crisi sanitaria di questi ultimi due anni ci ha offerto una scienza che ha abbandonato se stessa ha abbandonato la dimensione del dubbio si è subordinata al disagio della politica e la politica si è subordinata alla idolatria di una nuova forma religiosa che è la scienza lo dice la scienza, l'ho ricordato anche nei giorni precedenti come questo lo dice la scienza rappresenta qualcosa di estremamente triste ma guardate se voi andate o ascoltate le persone che vanno in internet trovate una serie infinita di soluzioni tecnicistiche delle sofferenze umane che lascia un pochino interdetti con i quali i club devono fare assolutamente i conti perché sempre più le persone si rivolgono alla creduloneria a una magia grottesca che promette soluzioni straordinarie anche quando sembra disporre scenari di grandi evoluzioni e cambiamenti in realtà sono forme patinate pubblicitarie di una tentativo di fissare l'esistenza umana nel già conosciuto nella fissazione sul passato ecco vedete tutti questi elementi molto concreti che caratterizzano l'esperienza delle persone che sentono un disagio crescere in loro ebbene tutto questo è perfettamente rappresentato nella esperienza del rapporto con l'alcol etilico indipendentemente dalla quantità consumata in ogni caso la coscienza viene modificata in ogni caso il moralismo etichettante impera sovrano quanta a questo punto la chiamo con il suo nome cattiveria si coglie nei confronti della persona che ricade questa indisponibilità ad ascoltare il senso della ricaduta è una rappresentazione perfetta della ipocrisia e del moralismo che si arpeggia anche nella dimensione della politica quando l'avversario fa cose indecenti e ne trae profitto e quando quell'avversario diviene a sua volta vittima delle cose indecenti che fa accade che la parte che si sente prima vittima poi si erge a giudice e agisce esattamente nello stesso modo di colui il quale prima criticava c'è un rimando continuo di accuse reciproche ed è esattamente quello che accade in una dinamica familiare io sono ricaduto perché questa vita familiare è caratterizzata dalla insopportabilità dalla incomprensione io mi indigno per la tua ricaduta perché tu ti ostini a continuare a bere certo può esserci una considerazione relativa a quel povero ricaduto altro non sia che un malato ma è un panicello caldo applicato su una realtà che di fatto implica semplicemente un conflitto giocato all'interno delle relazioni intime e familiari che fanno dell'alcol un luogo di combattimento non un luogo nel quale deporre le armi e costruire una relazione di pace Udolin parlò molto spesso della pace non ci può essere possibilità per la salute per la promozione della salute se non c'è una dimensione di pace oggi noi viviamo una violenza diffusa una conflittualità guerresca anche recentemente il nostro stesso governo ha investito denaro per comprare i missili cruis che hanno la caratteristica di colpire anche a mille chilometri io non mi sento in guerra con qualcuno non mi sento assediato non vedo nemici a mille chilometri e che senso ha quella spesa che senso ha comprare droni armati per colpire il nemico questo è il risultato di un vissuto di un vissuto di guerra di non essere in pace ma questo riguarda l'aspetto macroscopico dei conflitti tra le nazioni o meglio dei conflitti tra i potentati internazionali che vogliono semplicemente dominare la terra altro non vogliono vogliono colonizzare il prossimo senza disporre prima di tutto un radicale cambiamento in se stessi nei loro giochi perversi ma questa rappresentazione macroscopica è rilevabile anche nelle relazioni più intime da quelle di coppia a quelle familiari a genitori figli e sono questi gli aspetti che noi dobbiamo assolutamente approfondire e il contenuto autentico del club comunque si chiami il club è rappresentato proprio dall'approfondimento di questo disagio della politica relazionale affettiva della dimensione di ricerca o meno della pace o di creazione di conflitti che devono essere non sotterrati e rimossi ma affrontati per poterli superare bisogna parlare dei conflitti che ci sono se non si dà spazio alla parola prende forma la violenza tra le persone ecco vedete i club sono un'occasione straordinaria certo un piccolo seme ma un seme che può dare origine a piante molto rigogliose quindi non preoccupiamoci se i club numericamente magari possono essersi ridotti a ragione non solo della epidemia dei distanziamenti ma anche del prevalere di una cultura che non è inclina alla vita comunitaria nessuna preoccupazione preoccupiamoci invece di aumentare la qualità del club la loro vitalità e la loro presenza nelle comunità non rimangano nascosti i club in luoghi oscuri accoglienti anche si svelino e dicano la parola ad alta voce nelle comunità ed è una parola che parla di sobrietà che parla di ecologia profonda che parla di ecologia dal punto di vista umano un punto di vista umano che ha aperto la trascendenza per cui l'ecologia che sovraintende la vita comunitaria l'ecologia sociale ha la caratteristica di una parzialità della visione umana che però si apre profondamente all'appartenenza universale per questo si chiama ecologia sociale antropo spirituale non è uno slogan non è semplicemente un'etichetta è una realtà da praticare tutti i giorni e sono convinto che se oggi i club conoscono una riduzione quantitativa del loro numero hanno oggi la possibilità di coltivare con perseveranza una qualità che farà la differenza fin dal presente con lo sguardo rivolto al futuro senza soffermarsi in nostalgie nei confronti di un passato che non c'è più ecco vedete mi piacerebbe pensare che da oggi incominciamo pratiche culturali che non sono all'insegna dell'accademia non sono all'insegna della pura teoria ma pratiche culturali che sono concretezza nel cambiare la coscienza di modificare lo stato di coscienza senza ricorrere ad alcun trucco e senza soprattutto affidare in maniera unilaterale nelle mani di qualcuno il nostro destino gli altri insieme a noi possono semplicemente far sì che quei destini possano vederci parzialmente protagonisti e allo stesso tempo prudenti nell'accettare ciò che noi non possiamo controllare e non poter controllare non è un male è la precondizione per agire serenamente impotenti buona giornata a tutti che si Grazie.